Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e vi volevo augurare buon anno a tutti, buon anno insomma, in questo video parlerò dei miei buoni propositi per il canale, la pagina e il blog, allora, il blog, allora in questo video vi volevo parlare appunto del video che volevo, volevo farvi vedere sul canale, vi volevo far vedere più video mi preparo con voi, più video proviamo insieme, dove proviamo i vari prodotti, dove parliamo, dove si parla appunto di prodotti, ma parlando, non soltanto farvi vedere come si fanno, come come si realizzano i trucchi, scusate il telefono, perché quest'anno volevo appunto parlare un po' di più con voi, farmi conoscere un po' di più e farvi entrare un po' di più in quello che vi voglio, diciamo, nella mia vita, volevo condividere un po' più di cose comunque insomma, e quindi volevo farlo parlando e non facendovi vedere solo i trucchi insomma, e così andiamo per questa prima parte dell'anno, poi vedremo, se ci saranno aggiornamenti ve lo farò sapere, quindi i miei buoni propositi per quest'anno è fare più video, mi preparo con voi, e fare più video proviamo insieme, insomma, così riuscite scusate, sono andato in camera sempre, perché devo spostarla però, così riuscite un po' di più a conoscermi, per quanto riguarda invece il blog, farò alcuni post dove appunto sarà simile, mi preparo con voi, però dopo di che metterò sotto i video appunto, dove vi racconterò sommariamente quello che ho raccontato nel video, così poi vi metterò il link, e se volete potete andare a vedere anche direttamente il video, per quanto riguarda la mia pagina posterò i video che farò su Youtube, e alcuni pensieri farò alcuni sondaggi, insomma, su quello che volete vedere sul canale, e così interagiamo un po' di più. Il mio buon proposito per quest'anno è interagire di più con voi, almeno, riesco ad avere un rapporto più, diciamo, meno conservativo e un po' più social, certo, non voglio scoprirmi troppo, ma voglio farvi scoprire un po' di più di me. Ecco, questi sono il mio unico buon proposito, e questo insomma, poi insomma, i soliti propositi sono comunque farlo, far crescere il mio canale e farlo andare avanti, farlo costruire, come vi ho sempre detto, a me il canale piace costruirlo insieme a voi, perché voi, io lo faccio, ma voi lo guardate, insomma, quindi mi piace, mi piace, diciamo, esaudire le vostre richieste, ecco, un'altra cosa che mi propongo quest'anno è di fare più video, di mettere appunto più video richiesta di come ho fatto l'anno scorso, cioè, l'anno scorso ne ho già iniziato a farne un po' di più, però quest'anno voglio incrementare, scusate, voglio incrementare, come si può dire, voglio incrementare, diciamo, i video richiesta, ecco, e quindi quest'anno i miei video saranno un po' più parlati, così ci confrontiamo, non credo di riuscire a fare anche le dirette quest'anno, ma più o meno ci proviamo, insomma, al massimo farò una diretta Instagram, o andrò in diretta su Facebook, non so, adesso vediamo, insomma, così da poter parlare direttamente con voi e rispondermi direttamente in chat, insomma, quest'anno il mio buon proposito è interagire più con voi e farmi conoscere un po' di più. Dicevo che nella pagina appunto farò dei sondaggi così da poter interagire con voi, voi mi dite quello che volete e io lo faccio, insomma, perché il canale, come dicevo prima, per me va costruito insieme, cioè non ha senso che faccio quello che voglio direttamente, se poi non lo guardate, nel senso, magari a me piace parlare di trucchi, quindi lo guardereste sicuramente, però mi piacerebbe esaudire un po' di più le vostre richieste, ecco, ne avevo segnate due l'anno scorso, andrò a recuperarle, ecco, forse alcune le ho esaudite, però fa niente, cercherò, se voi mi fate le richieste, cercherò di esaudirle tutte, ci provo, almeno, e quindi niente, questo, questo è il mio video dei buoni propositi per questo 2019 e io vi saluto e ci vediamo in prossimo video, ciao ciao!